Utilizzi Joomla ma non possiedi un hosting per Joomla? Ti presentiamo la soluzione al tuo problema. Joomlahost.it Scopri la differenza tra un qualsiasi altro hosting e Joomlahost.it trasferendo in modo semplice e sicuro il tuo dominio Joomla sul nostro provider. Riceverai maggiori performance come server veloci e ottimizzati, protezione giornaliera contro attacchi hacker. Avrai la sicurezza della compatibilità al 100% che solo Joomlahost.it può offrirti. Non dovrai più preoccuparti di aggiornare Joomla, in quanto Joomlahost lo effettua per te. E soprattutto il servizio di hosting sarà completamente gratis per un anno intero. Come trasferire il tuo dominio? Semplice! 1. Registrati su Joomlahost 2. Richiedi il prodotto trasferimento gratis 3. Installa il componente di trasferimento assistito per i siti Joomla 4. Avvia la procedura che fa il backup e il trasferimento Il tuo sito verrà trasferito automaticamente sul nuovo hosting Joomlahost pronto per usufruire fin da subito di tutti i vantaggi della nostra piattaforma. Passa ad un hosting di nuova generazione con Joomlahost.it Per usufruire fin da subito di tutti i vantaggi della nostra piattaforma.it Per usufruire fin da subito di tutti i vantaggi della nostra piattaforma.it